Allora, dopo gara tra Coccinella e Roma Calcio Femminile, la Roma Calcio Femminile si porta a casa ai tre punti, iniziamo un po' per motivi anche di fair play con il mister Guidi, una vittoria che praticamente non fa grinse in questa partita. Sì, io temiamo molto questa partita, l'ho preparata al dettaglio perché conosco la squadra avversaria, so, dallo scorso anno e quindi diciamo che abbiamo approcciato la gara nel miglior modo possibile, abbiamo chiuso gli spazi a loro e abbiamo sfruttato tutte le occasioni che ci sono capitale, quindi faccio complimenti alla mia squadra. Mister, c'erano dei vecchi ricordi, soprattutto perché questa formazione, lo vogliamo ricordare, l'anno scorso vi aveva anche stromesso dalla corsa verso il Final Four dove poi la Coccinella si fermò soltanto gli ultimi istanti per così dire, forse si è ripartita da quell'occasione? Sì, sì, beh io l'ho preparata proprio su quell'occasione, nel senso dicendo che sono loro che ci hanno tolto la possibilità di fare le finali, quindi dobbiamo prenderci una rivincita e quindi andiamo lì e facciamo tutto per portare a casa il risultato. Le colonne portanti fanno parte, comunque sono primarie in questa squadra, anche se c'è qualche innesto, disegni veramente, però è veramente un funamulo in mezzo al campo? Ma disegni l'avevamo anche l'anno scorso, purtroppo a novembre per un problema fisico l'abbiamo perso e non ha più giocato e per noi è stata una grossa perdita perché ecco, come vedete fa la differenza in campo sull'uno contro uno e quest'anno l'abbiamo recuperata, ce la teniamo stretta e insomma la squadra è ben organizzata, abbiamo perso qualche elemento, però ovviamente abbiamo messo degli innesti importanti, tipo Vitale, Ciccaricchi, molto validi, quindi adesso proviamo a dire la nostra. Bene, grazie intanto al tecnico Guidi e noi da un tecnico ci trasferiamo al nuovo che avanza in questo caso nel campo femminile, Rainone, un'esperienza che comunque sta dando anche delle buone soddisfazioni, nonostante non arrivino i risultati, seconda sconfitta consecutiva, siamo all'inizio dell'anno ma manca ancora l'amalgama in questa squadra. Sì, diciamo, vabbè come esperienza nel calcio femminile, al 5 femminile già ce l'ho avuto qualche esperienza, quindi abbiamo un po' di ritmo che ci manca, siamo partiti un po' in ritardo, quindi dobbiamo trovare le giuste quadrature per poter proseguire. Io sono abbastanza fiducioso, la squadra c'è, le ragazze sono abbastanza brave, devono crescere sotto il punto di vista atletico, fisico, caratteriale. Anche perché mister la scorsa settimana a Civitavecchia la squadra non aveva assolutamente deluso in tutte le sue aspettative, era una squadra affrontata un'ottima avversaria, però si è difesa con le unghie fino agli ultimi istanti di gara. Sì, diciamo, purtroppo è lo stesso problema, diciamo, un po' di questa partita. Abbiamo pagato la settimana scorsa un po' il calo fisico, al secondo tempo purtroppo c'avevo qualche ragazza che non c'era, quindi stiamo recuperando qualche ragazza infortunata, qualcuna che è in ritardo per motivi di lavoro, non è potuta venire. Il calo fisico però come va gestito poi nell'arco dei due tempi, anche perché nel secondo tempo voi avete provato ad alzare il baricentro, però non era facile, perché penetrazioni centrali era difficile. Bisognava andare sugli esterni, ma poi sul secondo palo mancava forse quel passo in più. Il passo in più ci serve per arrivarci. Ci stiamo lavorando e piano piano ci arriveremo. Logicamente, mister nuovo, squadra che è abituata, magari a certi modi si devono abituare a determinati movimenti nuovi, tutto quanto. Si può fare, si può fare. Però io già glielo ho detto pure a loro, io sono convinto che possiamo fare un ottimo campionato.